Ciao ragazzi, sono in una postazione che probabilmente conoscerete, ho rubato casa di qualcuno Ah, puoi venire anche? Sì, sì, puoi venire Eccola qua, Roby, adesso è diventata casa mia questa, mi dispiace, sono un barbone senza tetto e ho dovuto rubare le case per venire ad abitare qua Ma non siamo soli Non siamo soli, perché oltre a Roby c'è anche proprio lei, Jenny, ma non è ma cucino, dovrebbe spuntare di qua Eccolo, c'è anche Angelo Allora, in realtà lì c'è anche Yumi, solo che purtroppo lei non potrà partecipare a questo video perché altrimenti muore Adesso vi spieghiamo che cosa succede Allora, grazie a Roby abbiamo scoperto questo gioco che si chiama I Wanna Test The Game In sostanza ragazzi, ci avete presente l'inferno, proprio l'inferno col diavolo Ecco, questo gioco è peggio, praticamente ci farà in teoria sclerare in un modo incredibile Però, visto che noi facciamo ancora più schifo, che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo queste, che praticamente saranno la nostra penitenza Cioè sono tipo, penso, delle caramelle piccantissime e anche delle patatine In sostanza il gioco è una specie di hobby parkour, ma non è normale ragazzi, adesso vedrete E questo è l'ultimo livello, è la cosa più schifichando al modo No, no, io non la voglio mangiare Ok ragazzi, in questo video moriremo Allora, saremo divisi in team Io e Ange contro Roby e Jenny Ovviamente stiamo utilizzando il suo account perché ragazzi io amo anche l'area degli account degli altri Vi faccio capire anche un attimo Non so se vi ricordate del vecchio Cat Mario, tipo quei giochi lì che... Madonna, sì Cioè, vedi in realtà, allora questo ovviamente non vale solo come esempio, eh Ovviamente voi direte, vabbè è un hobby, xiao, devi semplicemente saltare questa parte rossa No ragazzi, perché se la salto la cosa mi viene addosso Quindi è molto più difficile di quanto in realtà si possa pensare Ovviamente in cosa consisterà questa bellissima challenge Allora abbiamo circa 10 minuti a testa Quindi 10 minuti e te, 10 minuti Roby e Jenny Ogni volta che magari io muoio, passo il comando a te E dobbiamo semplicemente vedere chi va più lontano Il problema è che ogni volta che moriamo dobbiamo mangiare una di queste Il pacante Il pacante Allora, da cosa vuoi iniziare? Patatine o caramelle? Caramelle Ok, caramelle Allora ragazzi, Roby ci sta versando l'acqua Caramelle sono praticamente queste Una io e una mio cugino Ogni volta che muoio ci dobbiamo dare il cambio Allora Ti dobbiamo una vita a testa Sì, da quel che ho capito Ovviamente la roba lì ti arriva addosso Vedi come fanno? C'è il double jump Quindi bisogna tipo, penso, fare Vabbè non vale, dai Un attimo fammi Dai, tre possibilità iniziali per abbonare Ok, tre possibilità Quindi bisogna fare in questo modo qua Ma esce, esce, escono le fiamme Ogni volta è diverso Allora, aspetta un attimo Perché potrei arrabbiarmi e rompere il computer di Roby E lei non vuole Dobbiamo scambiarci Ma ragazzi, ho messo tanto piccante Non lo so Ah, secondo me Io lo perdono Il fatto che ti ho già messo l'acqua a disposizione È molto piccante Io lo perdono Ma non sarà mai piccante È una caramella normale Non è, mi sa di no Chiedo di reggerla, non lo so No, scherzavo È un lanciafiamme in bocca Ma devo finirla tutta? Certo La mia lingua sta bruciando un botto Ma che cosa faccio? Tipo pillola, me la bevo? Scende tutta dopo Mi sta la gola Mi sta in... Allora Non è proprio Si può reggere Vai, Angelo Oh, siamo ancora a primo livello Questi ci battono, eh Un attimo Da quale Poi ci... Madonna, Angelo Sei un bidone È, è il primo Ah, tu pure sei morto il primo Cosa vuoi dalla mia vita Io ancora sto bruciando dentro In tutto questo Guarda, adesso ti insegno a giocare a questo videogame Ma io lo spero, guarda Angelo Hai l'ultima possibilità Vai qualcosa Last chance, guys Mi sto soffrendo Angelo, rigira da destra Perché ha preso la pistola? Non lo so Perché mi sono arrabbiata Oh Ok Fai la stessa cosa? Salta subito No, è quello dopo, vi sa Devi saltare subito a quello dopo, eh È tosta Quindi subito Subito Bravo Me lo rispondo Ma come potevo saperlo io? Vabbè, solo perché sei arrivato qua Ti faccio fare un altro tentativo anche me Ok Quindi ora che sto per spavare Ve lo giuro Voglio riprendere la pistola Lo vorrei comprare queste cose Non vedo l'ora che tocca a voi Ve lo giuro Madonna Angelo, sei un bidone Della spazzatura È vero, bella Adesso ragazzi Vi dirò cosa farà Siccome io mio cugino lo conosco Ora siccome non Ora vuole far risultare Vedi tipo la femminuccia del gruppo Dirà No no raga io la reggo E nel frattempo si farà la cacca indosso No, non è vero Non è che ti potevi prenderla come pasticca Cioè Ma non è piccante Eh sì, certo Aspetta Massica, massica Non mi è andata giù No, così è parola Guys like the video L'ho già Siamo un po' avvantaggiati Perché abbiamo visto giocare l'oro Esatto Eh, come si va? Già non passi Sì, sì È avvantaggiata lei Tutto questo Eh, ok Allora Ragazzi, un attimo Un attimo Se voi non reggete questa caramella Ragazzi, una cavolata Tu l'hai ingoiata Una cavolata Una cavolata L'hai ingoiata Allora, quindi c'è questa cosa così Deve essere velocissima Ok, occhio che Ok, aspetta Però già Già meglio Già meglio Già, già Già, già Nonostante, guarda lei Continua a non capire No, anch'io Questo gioco è una tortura Comunque Sì, eh, ho quel di FALO TORRE! Lo so che lo sapevo Ti devi fatta fregare Carlo Ultima chance Esatto Eccoci qua Forza, Roby Mangia la tua bella caramella Dai Allora, vado Vado Non ingoiarla, Roby Oh, l'ho masticata Arriva tutto dopo Guarda, guarda Oh, adesso si Ah, adesso Ragazzi Challenge Ci tengo a Non fatelo a casa Beh, io l'ho trovata piccante Non so perché Ma qualcosa mi dice Che questo sarà il video più bello Di che siamo a fame Ma nooo Ma stiamo scherzando Sì, comunque Attualmente sono l'unico Che era quasi finita Ma non è finita? Tu vuoi? Certo che l'hai finita Tagliottiste Ma non passa Ma com'è che non passa? Adesso vedrai che tipo Jenny baciara il gioco Senza dover mangiare nulla Comunque non siamo riusciti a passare Neanche il primo step Venga, pregissima Questa è perché hai parlato tu Questa è perché hai parlato tu Questa è perché hai parlato me You try it You try it Eccoci Secondo Ultima scanza No, non ci voglio care Jenny Ma non basta Vai avanti Jenny, Jenny, no Nooo C'era quasi Nooo Mi sto Buona fortuna Tre sono troppo poche Tre sono troppo poche Non vale Vi dico una cosa Jenny soffre il piccante C'è anche quando è leggero Quindi l'abbiamo uccisa praticamente Faccio il video L'avete abbassato la moglie Vado Io l'ho masticata Un bel mozzicone Vai, vai No, io la sento Di già Io la sento adesso Se la mastica Che succede? Muore No, non lo puoi masticare Non voglio ingogliarmi La saliva Fallo, fallo, fallo Fallo Prima o poi Devevi ingogliare Sta agendo Sta iniziando ad agire Tipo è arrivata Una carabella di fruttata Finza piccante È buonissima Esatto Tipo super deliziosa Da parla Lo senti? Ora inizia piano piano A seguire la spiciness Non può essere Che è quella che non ho piccato Io c'ho un po' Eeeeh Easy spicy Jenny E' un po' piccante Ragazzi Oddio Io c'ho la lingua in fiamme Io sto bruciando Quanto è il colore del mio video Perché abbiamo fatto bruciando E' uguale alla mia felpa Allora Oddio È morta È morta Oddio Tocca a noi Qua non si va avanti Che da quando non superiamo il livello Adesso lo supero io Adesso lo supero io Fra Però sono 5 chance sempre No sono 5 5 No adesso andiamo avanti Perché se no C'è il gioco è tutto uguale Fresh bot Vai continuo Quattino Allora faccio gli ultimi dei tentativi E nel caso mangio Gli ultimi dei tentativi No basta caramella Ma cos'è che hai detto Roby Scusami Le patatine se non le avevi 18 anni Non te le facevano prendere No neanche I pezzi di carne Ma hai detto Veloce 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 No No ragazzi Non si può fare Questo è gioccarina Che devo veramente Mangiare altre cose piccanti Allora Questo è livello 3 Livello 3 Sì E livello 2 qual'è Cioè abbiamo saltato Il livello 1 Io penso che Io non mi voglio parlare più Allora Forse sono più scotte di queste No no ragazzi Io mi sento male Io ho paura Vediamo Fai vedere il colore Serio Ma vuoi l'acqua Fa puzza di catrave Al di là Che ho mandato giù la caramella Secondo me La caramella è piuttosto Della frutina Comunque Quanto è nella scala di XR Questa Cotte La risposta è corte Lo faccio per voi Vai Comunque non la puoi ingogliare No Non è meglio Mi sa Niente All'ospedale Non vogliamo Un chiamare il 118 No no È peggio della caramella Molto peggio Moltissimo peggio Oddio Tanto di tabacco Tipo Tabacco Sì Tutto ok Non ve lo auguro Anzi no Spero che perdiate No Questo video Siamo noi che soffriamo Perché tanto non lo supereremo mai Il primo livello Devi assolutamente farcela Non ti auguro con la patatina Te lo giuro Proviamo È come se ti arriva Non lo so Un lanciafiamme nella gola Quante possibilità avete detto? Sbrigati Angelo iniziamo male E fammi giocare Angello iniziamo male e fammi giocare Gioco Gioca Gioca Te lo spero Te lo spero Ma te lo spero per te Ok Sì ciao Ma non puoi farlo così lento In verità Se amori devi mangiare la patatina È l'ultima Sì Se sette volte sei morto Ecco Ah odora di nafta Io direi che una per volta non si avviene Ho dato solamente tipo un colpo con la punta delle lingue Già mi sta bruciando tutta la bocca Vai vai Angelo Stiamo proprio soffetto tutti Mastica veloce Butta giù Vai altra Butta giù Butta giù Dai Sì se stai guardando questo video ho ucciso tuo figlio Guarda è la stato del pensatore La vuoi la seconda non lo vuoi mangiare? Io sono pure il livello adesso Alzati Angelo vogliamo il suo spettacolo Ma ti riesci ad alzare? Ho un'idea No Zitto Niente cheating Non sto citando Anche io volevo farlo Qual era? Eh non c'è No è bloccato dallo sviluppatore Ma direi è un gioco infernale Secondo te non te lo bloc Io l'odio Dai Roby Siamo tutti con te Perché altrimenti lo devo mangiare in chi AHHHH Concentrati Concentrati Ok zitto Ragazzi penso che non ho bevuto così tanta acqua Oggi Oggi siamo idratati Comunque posso dire Roby allo stesso livello di Angelo Cristo Non frappare neanche il primo salto ragazzi Ma perché? Poco livello di cervello rotto Vai vai Pensate ad Opti Eh infatti si è morto Perché ci sta arrabbiando Roby Se ma te ci sta arrabbiando Perché perde O perché sai che tra poco la tua bocca dovrà essere ferita da un fungato Ma se io la giro Se io aggiro questa cosa Non la uccide Per favore Perché mi prende? Non ce la puoi fare No zitta Io ti supporto Zitta Hai l'ultima possibilità No 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 Fermo Tu dai fatti c'è 100.000 Ultima personalità che cosa? Aspetta un attimo Sì è vero lui parla Ha giocato più di tutti Voglio marire Un attimo cambio Devi mangiarla No 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 un attimo Non ho finito le mie possibilità Ma cosa vuol dire? Cambio È vero Fermo un attimo Un attimo Fermo È facile questo hobby ragazzi Ma dici sapere poi nei commenti se lo so passà Oh oh Mi salta ai più volte Ingeni Ma tu te la devi mangiare Dopo me la mangio Come dopo? Sto aspettando Sto lungando i miei tempi Vai Allora ho capito la tecnica Prima l'hai fatto bene Guarda tu no Mamma io sto male Oh Vai vai veloce Salta salta Vai Ce la puoi fare Ok Cos'era tipo laura Un'onda energetica Ce la puoi fare C'è giù Vabbè penso che si è scondato Che appena Jenny finisce le due possibilità Le ha mangiate entrambi Vai 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 Aaaaa 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 Mi va la forza Noi no ma perché voglio che l'hai mangiata No Cosa sei morta di infarto È colpa sua Aaaaa Alza le mani Alza le mani Eh lo facciamo fare a lei che è vestita come te Nessuno se ne accorterà Ma poi vedi che nessuno riesce a sforpassarlo . Ragazzi un livello Aspetta 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 Vai vai Divi saltare delle volte Aaaaa Aspetta Aaaaa Aaaaa Allora posso mettere, ne mangio due, se me lo fate ripare Ok, ok, vai, accetta Mangio tutto il pacchetto, se non lo vedi Due patatine, questo esplode oggi ragazzi, è buono dico Io ne devo mangiare una? Sì Aspetta, aspetta Diciamo, avete qua, va Ma perché vi prende lo stesso? Perché questo gioco è stato progettato per come? Because you can't play Non capisco il perché, te lo giuro Si è in table to jump properly Oh, vai Non devi fare così, devi fare così e poi così Ok, grazie, grazie per il tutorial Ma non subito il doppio salto Uno e poi l'altro Mi hai fatto così, di concentrare Ma non è poi, io manco solo saltata E poi mettere la visuale dall'alto Tirato Così, eh? Ora cosa mi ha ucciso? Il tizio delle fiamme Zitti Le fiamme Dai Roby, mangia queste due caramelline Dai No, l'ultima, datemi l'ultima Ultima possibilità Ultima Ultima Se perdi Nooo Dai, un po' ste due cibi Vai, due, le mangi così Come se non mostri Oddio Oddio Fatti vedere Fatti vedere È morta proprio Vieni, vieni, avvicinati Guarda, le stai ancora masticando Guarda You need some water God Ma Peppo non me in bagno Se n'è andata raga Roby, mi sa Le mangiate Sto bruciando No, Jenny non l'ha mangiata Sì, sì, non l'ha mangiata Sì, sì Non mi ha mai mangiata Non mi ha mai mangiata Ma l'ha mai mangiata No, raga Un attimo Lo sai, lo so, lo so Chiedo il bar No, no, non c'è bar Non le ha mangiate Vai Nooo Eh, credo sia piccante Poi vabbè Credo che tu ne hai mangiato pure più di due Erano C'hai preso così il pugnetto Cioè, non erano chipster, eh Potevi evitare L'ultima volta e basta Jenny, devi mangiare la patatina, eh Guarda che Guarda che Non vuoi Sottrarti A questo Corri No Eh, quando Quando mi dice Di mangiare la patatina Eh? No Ce l'avei quasi fatta Non ci credo Oh, la saliva Che lava Letta Ce l'ho in bocca No Ok Eh sì che è impossibile Hai ragione È impossibile Su la scala Su la scala Eh, I think it's An impossible game Guys Sorry, but Letteralmente Ragazzi Io mi arrendo Cioè, non è più Vai dritto, dritto E poi salta sulla scala Salta sulla scala Ma non ci arrivi sulla scala Vedi C'è lì Che fai doppio salto Tu dici Provaci E dovrei mangiare La caramella La lignola È stato bello E arrivati al momento Mangiare la patatina E finisce così E allora Jenny non mangia la patatina Allora devo prendere quella più nera Non c'è acqua Io ho il mio bicchiere Io ho il mio bicchiere Non ti passerà mai Ho bevuto dei bottini d'acqua Un bottini d'acqua Un bottini d'acqua No ragazzi No raga Vediamo alla prossima Ciao Così Con Jenny che muore E' stato bello E' stato bello E' stato bello Mendoza